cava ferro prodotti siderurgici offre cortesia e professionalità vienici a trovare in via cesaro giovanni 10 cava dei tirreni la notte tra il primo e il 2 novembre ha rischiato di finire in tragedia cava dei tirreni infatti intorno alle 3 in una nota discoteca di via 25 luglio durante una rissa che sarebbe scoppiata per futili motivi un giovane di pagani è salito a bordo della sua auto all'esterno del locale ed ha investito una serie di giovani presenti nei paraggi ferendone diversi e causando danni anche ad alcuni veicoli sul posto sono prontamente giunti gli agenti di polizia del commissariato di cava dei tirreni e anche tre ambulanze del 118 per sette persone si sono rese necessarie cure mediche i feriti sono stati trasportati all'ospedale santa maria dell'olmo di cava dei tirreni il più grave tra questi ha riportato alcune fratture le condizioni degli altri non destano particolari preoccupazioni l'autore dell'insano gesto invece è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio e adesso è ai domiciliari il risponso degli esami alcolemici permetterà di capire se il giovane aveva abusato o meno di alcol intanto proseguono le indagini per ricostruire dettagliatamente le dinamiche dell'accaduto grazie a tutti grazie a tutti